Steven Basalari fa 100k al mese con i contenuti, ma potrebbe farne 200 se solo stessi attento a queste due cose. 1. Input. Sia chiaro, i format che vengono scelti per lui sono fantastici, ma video di questo tipo, dove fa vedere quanto costano le case a Dubai, per quanto siano interessanti, hanno l'input sbagliato. Innanzitutto, se vengono fatti video da più di un minuto, ha senso farli in formato orizzontale, per una questione che verrebbe spinto di più dalla piattaforma. E magari un'altra cosa che avrebbe potuto fare è assumere una squadra di freebooter che ripubblicano 20-30 clip verticali al giorno estate da questo video lungo. Poi, piuttosto di dire, continuiamo a parlare di business e di soldi, oggi vi faccio vedere diverse tipologie di case. Avrebbe potuto incentrare il video su, sto decidendo quale casa comprare, ti porto con me e alla fine del video ti farò vedere quale casa ho scelto. Perché questo? Per due variabili. La prima variabile è il gossip. Gli italiani adorano vedere e sparlare di quello che fanno altre persone. La seconda variabile è lo standardizzare un format. Non avere lo sbatti di pensare a che video poter fare, ma poter portare lo stesso concetto con case sempre diverse. 2. Format. Avrebbe potuto lanciare un format su YouTube in formato orizzontale, come entro fine anno compro casa Dubai. Ora ti porto a vederne qualcuna. Quindi lanciare una serie di video dove in ogni video va a vedere due o tre case, con i prezzi, luogo, eccetera. E alla fine di ogni video, tra le case che ha visto ne sceglie proprio una. Ogni casa viene messa in una lista. A fine anno poi potrà monetizzare il format che ha costruito, come ha fatto con Donato di Common Licosense. Facendo indovinare alla sua community la casa che si comprerà tra quelli nella lista. In questo modo sarà facile fare un'estrazione dove sceglie una persona a caso tra quelli che hanno indovinato. E cosa vincerà? Un mese di convivenza con lui in quella casa, dove lanceranno progetti, contenuti e tanto altro. Al termine del mese, Steven avrà costruito un bene che sarà aumentato di valore di almeno un 50%. Solo perché è sua e perché ci ha lanciato un progetto. Così potrà metterla in affitto sovrapprezzata per chiunque vorrà viverci. Come so tutte queste cose, lo faccio per lavoro. Creo contenuti in modo da lanciare aziende e personal brand. Ed è quello che mi sta permettendo di guadagnare 18.000 euro al mese. Se vuoi capire come fare anche tu il mio stesso lavoro, scrivimi Steven nei commenti e ti spiego come iniziare.